Sare la preoccupazione dei sindacati per il riordino del sistema delle Camere di Commercio in Italia che il Governo si appresta a discutere nei prossimi giorni, poste a rischio chiusure ed accorpamenti ma anche perdita delle funzioni proprie delle Camere di Commercio. Queste le motivazioni che hanno portato in contemporanea in tutte le Camere di Commercio in Toscana alle assemblee dei lavoratori e di tutto il sistema camerale. I dipendenti delle Camere di Commercio sono dei dipendenti pubblici per cui il taglio che si prospetta, che è veramente un taglio imponente, pone dei problemi proprio di tenuta occupazionale e siccome per adesso non sono previste neppure le salvaguardie che a suo tempo erano state previste per i lavoratori delle province, il problema che si pone, si pone nell'immediato è che ricordiamolo, dopo due anni purtroppo l'alternativa potrebbe essere anche quella di una perdita del posto di lavoro. Ora noi ci auguriamo che non si debba arrivare a questo però proprio per questo ci si sta mobilitando. Quello che ci preoccupa al di là dei posti di lavoro che sindacalmente poi sono per noi l'oggetto più importante ma è anche i servizi che poi vengono resi che hanno una ricaduta estremamente importante nel contesto locale e lavorativo quindi va visto come la funzione della Camera di Commercio come un moltiplicatore anche di opportunità di lavoro e di servizi al mondo delle imprese. Sulla questione è intervenuto anche il Presidente della Camera di Commercio di Arezzo, Andrea Sereni. Devo dire che circolano tantissime bozze in questo periodo e a notizie certe che ho sono tutte bozze che sono letteralmente da cestinare. Quello sul quale stiamo lavorando in maniera assolutamente fiduciosa è quella sulle deleghe che le Camere di Commercio avranno prossimamente. Sicuramente deleghe che dovranno per certi aspetti essere legate all'economia del nostro territorio e quello che ovviamente sarà inevitabile perché di fatto lo prevede la legge delega è l'aggregazione tra le Camere di Commercio. Il destino di Arezzo immagino vogliate conoscere questo è quello in tempi non particolarmente brevi, comunque sottolineo sarà quello di andare assieme a Siena.